praticamente ho scoperto che il primo maggio è la festa del lavoro ma non è solo la festa del lavoro in italia è la festa del lavoro proprio nel mondo in tutti gli stadi del mondo si festeggia il primo maggio come festa del lavoro facciamo una bella gara le varzellette che dici? questo è parlato allora inizio io inizio io senti questa Yuri Kiki entra in chiesa guarda il crucifisso che fa facile con i chiodi secondo te i pinguini quanto è ardi? è più bassi 30 40 centimetri allora mi sai che io l'altra sera ho chiappato sotto una monica c'è uno che va da fruttivertolo e dice mi dà un chilo di mele ti dà come le vuole verdi o rosse e lui fa non frega niente tanto dopo le scavo mi manina forse a casa